La morte è il cuore della vita e quel mistero che spesso ci interroga rivela anche come vivere. Allora, capite, cari faccioni, si tratta di aver fiducia, anche se nel nostro percorso possiamo provare dei segnali che ci dicono per pericolo, caputa bassi, pericolo caputa bassi, noi dobbiamo aver fiducia, non fagli spaventare, non fagli spaventare per genitori, non spaventate questi figli, dobbiamo aver fiducia perché i pericoli ci insidiano, ci sono e sono tanti, ma noi non dobbiamo tenere, questo abbiamo scoperto in questo percorso dell'Altalesima, è un viaggio, una via, un'intimidata, ma in questo cammino ci siamo sentiti consolati, comportati, perché quei piccoli medagini che sono tanti, sono dei segnali fondamentali per dire attenti, qui c'è un pericolo, ma avvicogliati, vai a farlo, scopri che se sei capace di leggere la tua vita e anche il mistero della morte, tu capirai molto di più. E allora, ecco, questo bellissimo pagliagero che abbiamo ascoltato, un po' complicato, di qualcuno, sì, perché sono riscorsi seri, è riscorsi a Gesù che fa prima di morire, per sentire il suo testamento spirituale, come quelle parole che gli ospitali ci dicono, ci hanno detto prima di lasciare, restano nel nostro cuore scolpiti, ma Gesù ha valore qualcosa che Dio, nel profeta Gedevi, aveva detto prima, non so se avete ascoltato, nella nostra vita c'è una legge naturale, poi c'è un insieme di leggi civili che regolano la condivenza, e poi che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è un altro tipo di leggi? Sì, qual è? Una legge scritta per il cuore. Dice nella prima lettura, Gedevi, che Dio, da 30 e 30, piccoli e grandi, Dio, ha scritto nel nostro cuore una legge di allianza, cioè una legge di comunione, di amore, di pace. Ecco perché quando voi risentite, quando voi dedicate con qualcuno, non state bene, vero? E no? Perché il nostro cuore ha fatto per la comunione, per amare, per stare bene con gli altri, e quando noi adulti ci compliciamo la vita con queste logiche strane, non stiamo male, perché in ogni cuore è scritta questa legge di Dio, è una legge d'indaglianza, cioè di pace, di comunione, di perdono, di comprensione, di tolleranza. Quindi noi facciamo male noi stessi quando ci facciamo prendere da altri apprezzamenti che sono contrari a ciò che è scritto dentro di noi. Nel nostro DNA c'è questa legge di amore, di pace, di comunione, e se noi non l'abbiamo iniziato, noi stiamo male e facciamo stare male da parte perché è bellissimo. Sì, è bellissimo quando vi subbedite perché poi state male. Vero? E dovete accogliere, chiedere, ricevere il perdono di madre e papà e capire il senso di una superenza interiore. E il Vangelo, se questo non vi basta, bellissimo, risponde alla domanda di cui, come si chiama, quel punto che interrocca Gesù? Questi greci, che gli dicono che cosa vogliono questi greci? Che vogliono? vedere Gesù. Ma Gesù come risponde? Come risponde? Non risponde. Rispondono. Rispondono. Gesù come risponde. E gli dice, se voi volete vedere bene, dice Gesù, guardate il chico di grado. Così dice. Se voi volete capire chi io sono, dice Gesù, guardate la voce. È strano questo rispondere di Gesù. Ma solo così con queste due immagini che capiamo. Gesù sta parlando di seme e dice che la sua vita è come un chico di grado. Sapete che cos'è un chico di grado? È un chico di grado. Ma questo chico di grado è un chico di grado. E' un chico di grado è un chico di grado. Ma quando ha questa potenza? Quando la metti sotto terra, vero? E sotto terra, questo chico di grado è un chico di grado. E poi la gloria produce il frumento. Capite qual è la logica di Gesù della vita? Gesù dice, la mia anima è compata. Adesso dice che tanto sono le cose che mi fanno soffrire e che mi umiliano. Quei piccoli, non avete questa cosa? Ma tanto è sapato. Che tante sono le cose che ci umiliano e ci fanno soffrire, che tanto sono le cose che ogni giorno quelli che gli umiliano e che mi fanno soffrire. è come quel seme che immagisce dentro il nostro cuore nessuno vede ciò peccato è come nel terreno nessuno vede ciò peccato nel seme ma nei frutti noi vediamo che qualcosa è accaduto in quel terreno quel seme si è franimato macerato ma poi è dato un ucine a una cosa straordinaria le nostre sofferenze e le nostre humilazioni tutti li abbiamo ci tornano ma è il momento che come seme a noi si è per essere scritorati e immaginati ma per portare la foto migrata di Gesù se non accade questo i frutti non vengono fuori e noi genitori e noi a tutti lo sappiamo che quando ci facciamo prendere da questa logica che è una logica che è una cosa è vero cari ragioni quel seme vive un latino infaticabile e noi non lo pensiamo nemmeno come nel nostro cuore c'è un latino infaticabile quando siamo presi dalle amigliazioni dalle sofferenze ma poi il frutto emerge in maniera straordinaria e questo momento porta il suo risultato e dice Gesù volete vedere guardate ciò che accade a piccoli dalle voi siete come un piccoli dalle voi piccoli siete come un piccoli grano posto nel terreno nelle vostre famiglie le vostre famiglie sono come un terreno voi siete posti lì come un piccoli grano che porterebbe frutti cioè ma come faremo a portare frutti se voi studiate se voi vi comportate bene se voi agite bene se voi fate tutto quello che i genitori vi dicono porterebbe frutti sia come la parte ma perché devo studiare che sofferenza ma perché non puoi dire sempre a mano per golella ma ma sovrilla ma perché ma perché rotolai frutti adesso ti sembra di non capire come dico di grano che mi vedete ma se vuoi nella vita d'unore tutti ringrazia chi mancia un po' ringrazia chi gli chiede qualcosa di più ringrazia qui chi in fondo sollecita perché tutti lo porti bene capite come il piccoli grano la mia vita è come questo piccoli grano per produrre frutti e me lo potere e la mia morte sarà salvezza per l'uomo guardate che risponso che si coglie solo nella dimensione di chi qualche volta rissuma la logica del piccoli grano immaginate se qualche volta aveste fatto pensato e quanta la valigia è andata lì per l'uomo di farlo beh questo non esiste bene come tutti ma non esiste di maniera rassegnata c'è gente che sopporta i crisi quotidiani ma non ce la farà prima poi si compierà solo chi con forza perché ha detto di sé una potenza o un'energia vitale trasforma quelle situazioni vincerà non è la rassegnazione ma è la lotta per il positivo è la lotta per l'amore perché si apprendi la giustizia che ci vende persone cristiane abili ad una società nuova non la rassegnazione la sopportazione ma non c'è un altro come normalmente le voci di dormire mentre il pescano ha una potenza dentro di sé come se noi siamo questo tipo di plano opposto nel terreno degli affetti delle relazioni se sapessimo che ognuno di noi ha una potenza dentro di sé ha un potenziale di energia e di vita non soffronerebbe mai sofferenze e le relazioni ci porteranno alla glorificazione e all'esaltazione dice Gesù e allora voi volete capire che io sono dice Gesù guardate la croce anche qui la vita va matta Gesù dice bisogna odiare no e la vita bisogna odiare ciò che non va avete mai visto un campo un grado beh in un grado ci sono anche delle bacce allora dice Gesù e la vita che vi chiamate elimina ciò che non va capite è un lavoro continuo la nostra vita ecco la quale che si manca si conclude abbiamo lavorato nel terreno del nostro cuore abbiamo lavorato nel terreno delle nostre famiglie nel terreno dei nostri affetti se abbiamo lavorato anche accogliendo sofferenze e subiezioni continuo è raro basta aspettare un po' ma se non lavoriamo con questa logica non solo ve la riflettere ma noi lo conteremo tranquilli ecco ciò che vediamo nella società allora riferiamo quest'oggi il nostro desiderio di camminare proprio preparandoci ormai alla Pasqua con questo con questa volontà sappiamo che Dio ha scritto nel nostro cuore una etoce di amore questa è la nostra cosa è una potenza che ci farà resistere perché i frutti della vita e della nostra società si affermino ma ripariamo delle finale dalla vita ciò che non va per le prove delle potenze orgoglio e l'umiltà del piccolo di grano è una grande relazione di vita allora attenzione il terribolo ma con fiducia attenzione talvolta ma con fiducia perché anche con queste sono le situazioni che continuiamo a camminare senza perdere la fiducia negli altri che sono tutti in vivo e allora in questo percorso della palesima vi ho detto e spiegato qualche segnale perché nella vostra vita crescendo possiate fatti aiutati dai segni della vita bene papà vi ho vittorio vi ho vittorio d'arzi grazie grazie grazie